Forza ragazzi, avanti, avanti, state tutti attaccati a me. Lei no, giù le mani! Sai che è molto divertente, papà non ci ha mai fatto salire sulla metro. E forza, la città è in subbuglio, non so che abbia autorizzato una parata gay nello stesso giorno nel quartiere italiano con la processione per San Giuseppe. Dammi un dollaro. Tranquilli ragazzi, ora ci penso io. E chi sono io, Babbo Natale? Ma dammelo tu, un dollaro! Ma non hai avuto paura? No, perché? Perché mi ha urlato sulla faccia. Tu non hai mai sentito come urlava zia Assunta quando parlava Rega. Come sporco qui dentro. No, non è che la metropolitana sia sporca. È che sono sporchi gli sporcaccioni che la sporcano. Che ci faccio con questo bicchiere? Buttalo in terra, no? Guardate quella povera donna col bambino in braccio e tutti quei pesi. Tieni tuo sorello un minuto. Mi scusi? Posso darle una mano? Posso fare qualcosa per lei? Ah, bene. Avrei preferito che mettesse il salame. Ma tu sei molto più carino. Visto bambini un semplice atto di gentilezza e subito il mondo diventa un luogo simpatico. Certo che qui da noi dovrà perfezionarsi nell'inglese. Che dolci. Guarda, c'è posto. Oh, quanto è carino. Oh, che guardi. Oh, c'è proprio un bambolotto. Un bambolotto dolci piccolo. Che bello. Pumoli della madre. Ma quanto sei simpatico. Guardate come sta buono. E ora che fai? Lo adotti? Guardate come sta buono.